ciao a tutti siamo qui a presentarvi la nostra recensione sulla sella vtb silverado pro modello storico per il marchio americano che si propone per un utilizzo dal trail ride fino all'enduro caratterizzato da un vistoso canale centrale per scaricare la pressione sulle parti più sensibili e in questo caso nella versione pro troviamo un carrello realizzato in cromo lateralmente abbiamo un rivestimento protezione dalle abrasioni tutta la superficie della sella è caratterizzata da vistose zigrinature per favorire il grip la sella è disponibile nella lunghezza di 274 mm e nelle larghezze da 142 o 133 mm vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione completa al link indicato nell'info del video un saluto a tutti un saluto a tutti